io posso accattare per primo a questo punto, ma perché accattavo il primo? perché mi dicevano a vento e vede il pettacchio e ovviamente se ti scappa l'occhio ti provoca ma se io quando ero al tempo e me ne vovo mi sono dipreso da uno che ti minacciava forte ci può fare, chiaramente quindi controlla uno, stai frontonando il sinistro ok, si provoca